di presentazione di questo progetto, la tournée continua e questa sera siamo rienti di ospitare il Francesco Chiapperini con il loro progetto No Per, Francesco Chiapperini, bravito, la dinamica che è la presenza di questo passo, poi Gianluca Liglianza, Saffolo Tenore, Dario Caracani alla chitarra e Antonio Fusco che qualcuno di voi di Polarani l'ha già visto qua con il suo progetto l'anno scorso, la batteria, vi informo che il concerto sarà in un unico set per il loro desiderio, quindi vi auguro un buon ascolto, il bar comunque rimarrà aperto in ogni caso, fine concetto, buon ascolto con il Francesco Chiapperini No Per. Grazie. 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 Grazie.